che ovviare con i giocatori che ha in casa o magari con qualche canterano per esempio abbiamo visto che nel pre-campionato ha puntato su Conrad De La Fuente anche oggi l'ha convocato quindi magari puoi anche pensare o Hans o Trincao o Pedri o Griezmann o anche Conrad De La Fuente che alla fine è anche lui un classe 2002 quindi un altro ragazzo molto giovane Dembélé è tra quelli che posso sacrificare per avere il mio gioiello quindi non è escluso nulla mancano giusto 24 ore alla fine del calcio mercato sarà una giornata assolutamente di fuoco anche per quanto riguarda poi il difensore vedremo quello che accadrà perché chiaro il Barcellona ha tre centrali Araujo oggi ha fatto una partita un'ottima partita ha dimostrato di poter tranquillamente essere in questa squadra e non dico di poter essere il titolare ma sicuramente i due centrali devono iniziare a preoccuparsi perché comunque Araujo non è un pischello qualunque un ciumi qualunque che abbiamo visto che comunque non aveva il livello per giocare nel Barcellona Peroni è solo tre quindi non basta hai ragione Giussi perché veramente mi sono dimenticato di dirlo ma è da sottolineare Araujo ha giocato alla grande come se fosse stato un senatore non ha sbagliato niente sostanzialmente anche quel autotraversa comunque lui era sul pallone sulla traiettoria ha prestato bene i giocatori avversari mi è piaciuto molto ha saltato bene di testa così come mi è piaciuto e anche questo non ho detto Coutinho e comunque sia all'uscita dal campo di Coutinho si è sentita perché è mancato un collante tra centrocampo e attacco dopo si è visto un po' più di confusione anche a livello tattico Coutinho invece riusciva bene a tenere unite le due fasi e i due reparti oltre a dare chiaramente molta velocità si è sentita molto e si è sentita l'assenza più di Coutinho che di Ansufati con la loro uscita non so cosa ne pensate anche voi su questo fatto sono d'accordo sono d'accordo con Giuseppe è andata così allora scusami e volevo salutare Albert Metscheworn che ci ha salutato lui prima contro la chianti contro la chianti contro la chianti ma io vorrei anche che gli rispondi eccolo la patria dei Messi e la sua poca influenza sul gioco sono preoccupanti sì ma la patria io non l'ho visto sinceramente apatico non saprei non saprei non saprei dire è che nel secondo tempo tutta la squadra è calata e poi si è giocato si è giocato molto su di lui questo forse l'ha detto Giuse inizialmente si è un po' tornati al vecchio Barca con poche opzioni è chiaro che quando Ansu Fati non fa il fenomeno lì sulla sinistra abbiamo sostanzialmente un vuoto e quindi si è portati a buttare i palloni tutti su Messi ho notato anche un brutto ritorno un po' al vecchio cioè anche tutti quei passaggi verso il portiere che nelle prime due gare non si erano visti il portiere era stato chiamato in causa pochissimo oggi invece ha ricevuto molti retropassaggi e quello è anche indicativo di quando la squadra è in difficoltà non sa che cosa fare e allora per prendere anche tempo dà il pallone indietro al portiere quasi per cercare nel frattempo di riorganizzare le idee in quei pochi secondi che si aprono tra il possesso di palla della difesa e il portiere si è ricaduti in qualche circostanza un po' in vecchi errori va bene allora Messi che Koeman dopo la partita ha detto ci è mancato profondità ma abbiamo avuto le migliori occasioni allora sì quello che stiamo dicendo noi allora cominciamo prima di dire di parlare di di Giordi Alba e del proprio infortunio io direi che possiamo utilizzare nel riassumere un po' le domande che ci stanno arrivando queste di Magdalena di Magdalena allora intanto lei comincia che ne pensate del rigore o rigore o rigore inondati al Barcellona e prima per chiudere questo fatto del rigore è interessante quello che ci scrive Carmelo perché nella no aspetta non è questo eccolo eccolo qua quello che ci scrive Carmelo che dice che il VAR non ha fatto quella partita col Betis che dopo parecchi minuti ha interrotto il gioco per dare il rigore al 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 Real Madrid e dice bisogna stare attenti a questa situazione perché sta diventando sistematica io l'ho detto mi sono già espresso su questo voglio sapere l'opinione su sui rigori e su questo fatto del sistematico da parte da parte di Giuseppe e poi così ci dividiamo un po' le domande se no se tutti le commentiamo finiamo domani perché sono tantissimi sono d'accordo con te Maxi sono d'accordo con il nostro ascoltatore perché sembrerebbe alla fine così un disegno un complotto chiamiamolo come vogliamo chiamarlo ma alla fine dei conti il Madrid ha i rigori che ci sono e anche quelli che non ci sono il Barça non ha i rigori né che ci sono né quelli che non ci sono quindi sostanzialmente si va sempre in una sola direzione il rigore forse oggi c'era io ripeto poi l'hanno fatto vedere così poco è sembrato la prima in diretta ho detto il rigore netto proprio in diretta è sembrato proprio che gli avesse portato via il piede così non è stato rivedendo il replay tocca un po' il pallone ma tocca anche la gamba e alla fine se tocchi un po' il pallone ma tocchi la gamba quello è il rigore perciò secondo me il rigore c'era chiaramente ci hanno dato ci hanno tolto lo strumento per valutare cioè due tre replay come spesso fanno il fatto che il replay sia passato una volta anche molto velocemente mi fa sospettare che hanno voluto in qualche modo mascherare ok 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 allora invece per Alberto Alberto sempre usando io non ho detto niente Magdalena che ci chiede come come hai visto sia il nuovo arrivato Dest che la prestazione di Sergio Buschetti anzitutto Maxi Dest ha detto dopo la partita ha detto sono molto contento con l'esordio e con la fiducia che mi ha dato Koeman tu come l'hai vista la sua entrata è entrato poi in un ruolo non suo ma ha giocato a sinistra ha giocato in nazionale però ha giocato in nazionale sì sì in nazionale non è bene non è bene per lui sì sì possiamo dire che è entrato bene possiamo dire tutti che è entrato bene a me è piaciuto ha fatto poco perché il tempo era limitato ma quel poco che ha fatto l'ha fatto bene non è facile entrare per un esordiente in un Barca in difficoltà contro una squadra forte come il Siviglia e lui l'ha fatto bene la personalità ce l'ha ecco invece su Buschetti che pensate meglio o peggio delle altre delle altre partite peggio rispetto al Celta è un momento molto stanco molto stanco alla fine proprio con la lingua è un Buschetti che non ha i 90 minuti non può averci un Buschetti che è arrivato al cinquantesimo finisce finisce la benzina per me è arrivato a questo punto un giocatore che può entrare nelle rotazioni ma è un giocatore che deve partire dalla panchina proprio perché il suo fisico purtroppo non regge più e tu non puoi arrivare a giocare una partita importante che arriva al cinquantesimo e devi spendere il cambio perché il tuo centrocampista non regge più quindi a questo punto ti siedi in panchina e subentri ti fai 20 25 minuti e fa giocare Pjanic che a me Pjanic personalmente quando è entrato è piaciuto l'ho visto soprattutto cattivo ma anche a livello si a me è piaciuto per me Pjanic deve giocare titolare al fianco a De Jong e poi ha velocizzato anche un po' di più il gioco rispetto a Busquets che io l'ho visto molto molto lento in fase di possesso quindi io spero che adesso Koeman sia andato così anche perché ci sono stati problemi giocatori col covid giocatori che si sono allenati di meno quindi è andato avanti così spero che dopo la pausa inizino un po' a cambiare delle dinamiche tipo destra terzino destro perché serve spinta a destra non solo sostituendo Griezmann ma anche con un terzino copiando diciamo Giordi al bassinistra serve un terzino di spinta e destra anche oggi è dimostrato in quei pochi minuti che è un terzino di spinta lo vediamo sempre in attacco quindi serve destra a destra serve Pjanic al centrocampo serve un cambio in attacco serve cambiare un pochettino però Busquets mi dispiace dirlo ma sono già tre anni che fa un po' fatica Giudi questa è una squadra in costruzione quindi chiaramente work in progress ci saranno inserimenti per tutta la prima parte di stazione per me sarà tutto l'anno sarà comunque una squadra in costruzione perché non è neanche una squadra poi finita mancano alcuni tasselli che non arriveranno neanche che non puoi neanche finire di costruire perché purtroppo ti mancano i soldi quindi Coman deve arrangiarsi con quello che ha che non è male per carità perché comunque è una squadra di altissimo livello però chiaro che se non gli prendono neanche il difensore centrale lì Coman non può fare miracoli se non hai una punta e non arriva Coman non può fare miracoli però comunque è una squadra in costruzione che deve essere continuata a costruire anche l'anno prossimo svecchiandola ancora di più però per adesso essendo stata stravolta già perché comunque il Barcione è stato stravolto è passato dal 4-3-3 che era base da 20 anni a questa parte è passato dal 4-2-3-1 un modulo che questi giocatori non erano abituati a fare ed è un modulo completamente diverso al 4-3-3 le movenze soprattutto per i centrocampissi i ritmi sono completamente diversi quindi già il fatto che abbiamo fatto 7 punti nelle prime 3 partite non soffrendo più di tanto perché comunque col Villarreal col Celta il Barcione non ha sofferto contro il Sevilla sì però comunque il Sevilla è una buona squadra quindi ci sta però comunque il Barcione ha dimostrato che cambiando sta recependo tutti i cambiamenti quindi già è un ottimo passo avanti in questo periodo di costruzione di transito che ci sta sì perché c'è una sinergia tra allenatore e squadra questo è importante allora Cotinio intervistato dopo partita dice quello che dicevamo noi dobbiamo continuare a lavorare per correggere certe cose allora d'accordo con la sostituzione di Cotinio e usciti Giordi Alba e Grisman attaccavamo più a destra questo è stato un bene o un male secondo voi allora per quanto riguarda Cotinio io non l'avrei sostituito perché è stato uno dei migliori in campo poi non so se magari era stanco noi questo dalla televisione non possiamo percepirlo più di tanto poi vabbè Coman ha fatto quel cambio per cercare anche un po' più di difendersi dare più sostanza a centrocampo diciamo però io non non l'avrei tolto perché Cotinio attualmente è uno dei quei giocatori che ti illumina la squadra che ti prende palla ed è capace di inventare qualcosa è l'alternativa a Messi noi prima avevamo solo Messi palla lui e Messi deve inventare adesso abbiamo anche palla a Cotinio e Cotinio inventa Cotinio va via in dribbling palla filtrante comunque è diventato il faro del Barcellona dopo solo le tre partite ha avuto un cambiamento pazzesco e attualmente un giocatore imprescindibile quindi io non non l'avrei tolto sinceramente però ripeto non so se magari era stanco questo non lo si percepisce dalla televisione vabbè io ho percepito che esatto che lì Koeman ha pensato che potevamo prendere il gol e che quindi ha cercato di difendersi io l'ho interpretata in questo modo ha preferito coprirsi di più ed evitare ed evitare ed evitare ha pensato che un punto non era male in questo momento della situazione contro una grande squadra che attualmente sta molto meglio di te sia fisicamente ma anche proprio come squadra Siviglia è una squadra già bella costruita da un anno automobilismo che giocano da un anno sì l'undice è sempre quello è una squadra che l'anno scorso ha fatto una stagione comunque pazzesca Allora prima di prendere il tema caldo perché tutti lo stanno scrivendo ovviamente Griezmann e analizzare quello che Giussi già l'ha detto all'inizio però insomma dobbiamo affrontarlo io volevo perché Gabriele Gabriele Galligani ci dice questa giunta direttiva avrebbe meritato un ammotivamento stile Hotel Esperia ci sarebbe voluto un altro Alex Anco quando ci sarebbe è